Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. L'Italia deve fare i conti con un altro femminicidio, l'ennesimo. Questa volta a perdere la vita è stata la 27enne Vanessa Bowen, trovata morta all'ingresso di casa. A lanciare l'allarme è stato il compagno che, come riportato dai gazzettino.it, era rientrato e ha trovato Vanessa a terra vicino all'ingresso di casa. A quel punto l'uomo ha chiesto aiuto a un vicino di casa e, insieme, hanno chiamato il 118. Sul luogo del delitto è giunto il medico legale Antonello Cirnelli che ha svolto una prima ispezione esterna del corpo. Secondo quanto riportato dai gazzettino.it, il medico legale ha riscontrato che Vanessa Ballan è stata colpita al torace con almeno sette fendenti e, inoltre, è stata picchiata al volto. La vittima presenza anche ferite alle mani che, probabilmente, si è procurata nel tentativo disperato di difendersi dal suo aggressore. In ogni caso, solo l'autopsia potrà fornire ulteriori elementi sui colpi mortali. Stando a quanto si apprende, Vanessa ed il marito, sulla base dei primi riscontri, conoscevano il presunto omicida e proprio per questo motivo la donna avrebbe aperto la porta, venendo però aggredita e uccisa. Il compagno, Nicola, si trova in stato di shock, ma stando a quanto si apprende sarebbe riuscito a fornire elementi utili agli investigatori che in queste ore stanno ricercando l'omicida.